Non ci posso credere? Andiamo, Brittany. È il film che volevi tanto vedere. Allora, vuoi sapere chi c'è dietro a tutto questo? Che cosa è stato? Brittany, è la tua faccia. Ehi, ehi, tu, tu. Ehi, silenzio. E' stato il sogno. E' stato il sogno. Perché questo affare non sta zitto? Sta facendo quel rumore perché è disidratato, Brittany. Deve fare un bagno di fango. Beh, è un vero peccato. Non farò nessun bagno di fango. Tutto bene, non vi preoccupate. Non c'è niente da vedere, gente. Proseguite, circolare. Non mi sono mai sentita così umiliata in vita mia.